E' un film molto vecchio, complimenti perché effettivamente è arrivato fino ai nostri giorni in buone condizioni. E volevo chiedere ad André quanti anni sono che l'ha girato e con chi dei suoi amici l'ha girato, soprattutto se ancora oggi si vedono e si sentono. Con chi dei tuoi amici già attraverso il film? Il cameraman, l'operatore, s'appelé, excusez-moi, Pierre de Donquer. Il cameraman e lui hanno fatto la sceneggiatura insieme. E l'année? Il 1956. E lui è venuto in Italia proprio per partecipare a questo festival. E com'è quest'Italia, soprattutto a Montefalco, dove lei in questi giorni risiede? E come si è venuto in Italia per partecipare al festival? E come si è venuto in Italia per esempio a Montefalco? Abbiamo venuto in Italia e abbiamo venuto in Italia e abbiamo venuto in Montefalco a 30 anni, con l'esposa e i miei figli. Abbiamo venuto già 30 anni fa a Montefalco per la sua spazia. E ora, dopo 3 anni, vengono regolari a Montefalco per riconoscere i peisaggi e la cultura per tutte le saisoni. E sono tre anni che viene regolarmente a Montefalco durante tutte le stagioni perché vuole cogliere delle sfumature. Grazie. Grazie.